Conduco io o conducete voi? Conduci tu Anna Maria, dai! Ok, allora fuori programma quest'oggi Startup, siamo in onda da Manfredonia. Praticamente siamo nella sede di Rete Smash, da qui tutto è nato, infatti questo programma è saltato all'attenzione di qualcuno, in particolare l'abbiamo portato in tv. Startup oggi chiude il ciclo. Anna Maria Salvemini è anche in onda su Rete Smash come tutti i giovedì e questa è l'appendice che avevamo promesso ai nostri radioascoltatori, Startup in versione speciale in tv e in radio. E quindi un buon pomeriggio sia ai telespettatori che ai radioascoltatori. Oggi una puntata conclusiva in cui ci saranno ringraziamenti, racconteremo un po' come si è svolto questo nostro percorso insieme, grandi compagni di viaggio, Annibale, Francesco e dall'altra parte, quest'oggi in regia perché siamo in radio, c'è Matteo, Matteo Perillo. Che questa volta potrà parlare un po' perché c'è la tv e un po' perché l'ultima puntata è giusto così, ci siamo tutti. Allora, noi in radio abbiamo già fatto la nostra puntata di verifica e adesso la facciamo anche in tv. Anna Maria, com'è andata? Secondo i riscontri tanti ricevuti nel corso del programma, benissimo, tant'è che insomma i giovani ci hanno cercato, hanno voluto presentare le loro idee e ci siamo occupati di giovani, di giovani talenti, hanno presentato le loro idee, hanno avuto anche suggerimenti coloro che erano a casa e ci seguivano. E quindi, insomma, gran successo per Startup. Annibale? Sì, è una televisione di servizio, mi piacerebbe dire, così come una radio, non fosse altro per tutte le informazioni, i bandi, gli avvisi che abbiamo dato, oltre che le buone pratiche che abbiamo presentato di volta in volta. E sarà bello adesso rivedere un attimo assieme, facendo un po' tra un bilancio e una valutazione, tutto quest'anno che abbiamo passato insieme, proprio per vedere quello che è successo, ripercorrendo un po' sia queste buone pratiche, ma anche qualche band, perché ricordiamoci che alcuni di quei bandi che avevamo citato sono ancora aperti, quindi utilizziamola anche per fare un po' di servizio quest'ultima. Vogliamo dare anche un po' i numeri, Annibale? Siamo alla 32esima puntata, un lungo cammino abbiamo fatto insieme, che cosa ti ricordi? E vabbè, sicuramente mi ricordo, anche perché la sto riguardando su YouTube, dove è possibile rivedere tutte quelle che sono state le puntate di Startup. e rivedo in questo momento la prima puntata, che rappresenta un po' questa immagine col professor Melandi, che dà questa definizione di non-profit, che cerca di spiegare quanto il non-profit sia vicino alle persone. E quindi, in questa breve descrizione, che poi sono tre minuti, lui racconta tutta la sua vita, tutti i rapporti che nella sua vita ha avuto nei confronti del non-profit. E parte dalla culla e arriva fino alla fine, parlando delle confraternite, per quel che può essere ad esempio la fine della sua esperienza universitaria, che è stata possibile grazie alle borse di studio che gli sono state erogate da empty non-profit. E quindi è stato bello. E un invito a tutti quanti è quello di rivedere questo, non soltanto tutta la puntata, ma in particolare questo video, che cerca di spiegare veramente quanto il non-profit è vicino. Intanto noi abbiamo le cuffie, sentiamo anche della musica che ci fa compagnia come sfondo, sottofondo. Matteo, com'è che si dice? Come sottofondo. Sottofondo. Sottofondo, perché noi in realtà nella puntata radiofonica, che stiamo trasmettendo come di consueto sulle frequenze radiofoniche di Rete Smash, ma che vanno anche in streaming, su internet, al sito retesmash.com, sarà un po' un'anteprima della puntata televisiva, ebbene noi stiamo trasmettendo in realtà con un sottofondo musicale, con l'interruzione di brani musicali, insomma sarà ben diversa rispetto alla puntata televisiva. Ed è ben diversa anche per chi ci segue in tv, appunto, perché ci vede in una maniera un po' insolita. Sì, è un esperimento che stiamo facendo anche noi, ma l'idea di mettere insieme tv e radio nella loro autonomia, ma anche nella mescolanza di generi, quello che in gergo si chiama transmedia, abbiamo provato nel nostro piccolo a farlo e adesso siamo arrivati all'ultima puntata e quindi cerchiamo di andare oltre e di mettere insieme questi due strumenti. Per chi ci segue in radio, invece, se vuole vederci in tv, vada sul canale 145 del Digitale Terrestre. Oppure, come diceva prima Annibale, si ha la possibilità di rivedere tutte le puntate sul canale YouTube Padre Pio TV. Infatti, proprio ripercorrendo quelle che sono state le tante puntate, se volessimo distinguerle in delle macroarie, ci siamo occupati per esempio della macroaria cultura, e in questo momento mi è venuto in mente, proprio perché ho rivisto un po' le faccine, e mi è ritornato, mi sono ricordato un po' quella puntata nella quale abbiamo parlato, della orchestra di archi, che si voleva costituire a Manfredonia, venne il maestro che, diciamo, era alla ricerca di talenti per realizzare questa orchestra. Michele Telera, che salutiamo ancora. Ci sono state buone notizie, perché poi alla fine questa orchestra si è formata, si è costituita e ha fatto anche delle belle rappresentazioni in una serie di manifestazioni che ci sono state a Manfredonia anche di promozione della città, e quindi in chiesa è stato bello vedere, assistere a questa... E infatti tanti ragazzi, proprio grazie alla puntata che mandammo in onda tempo fa per presentare questo progetto, questa orchestra, hanno fatto richiesta di far parte, insomma, come componenti, e tanti da Roma, dall'Aquila, da diverse parti, insomma, dell'Italia, sono venuti qui sul posto e hanno partecipato. A proposito di cultura, poi qui scorrendo sempre le varie puntate, rivedo una puntata nella quale purtroppo non c'ero, e quindi in questo caso qui mi dovete raccontare voi un po' quello che è successo. Vabbè, io naturalmente l'ho rivista la puntata ed era quella che avete girato, anche questa, in esterna, presso il teatro comunale, se non sbaglio, qui di Manfredonia, con una cooperativa che si occupa di cultura, giusto? Sì, era la cooperativa Bottega degli Apocrifi, con loro abbiamo rivisto un po' la loro storia, anche in questo caso abbiamo cercato di portare il teatro in tv con una forma che si conciliasse con la start-up, perché questi ragazzi della Bottega degli Apocrifi sono per noi un'autentica start-up. La bellezza è che sono tutti giovani, vero? Eh sì, anche perché il programma già dal titolo start-up, vuoi o non vuoi, ha come protagonisti principali sicuramente delle persone che sono quelli che attualmente vengono definiti nativi digitali, e quindi comunque stiamo parlando bene o male di giovani, ma soprattutto di giovani che hanno delle idee innovative e che cercano di applicarle ad attività di impresa. Sempre ad esempio legate all'ambito della cultura mi viene in mente la puntata nella quale intervistammo i due fratelli prima che partissero per questa loro esperienza di studio fatta all'estero, in realtà oltre oceano, e due ragazzi che poi hanno realizzato un cortometraggio che parlava delle tradizioni, delle radici e quindi anche qui diciamo che abbiamo fatto da apripista per una bella iniziativa dal punto di vista culturale che poi questi ragazzi hanno realizzato. Ricordiamo anche l'altro titolo del nostro programma, perché è fondamentale anche questo, significativo, perché quelli che vogliono cambiare non aspettano, lo fanno, ed è stato proprio questo poi il senso che abbiamo voluto dare al nostro percorso. Il titolo, questo sottotitolo, lo abbiamo preso in prestito da un libro di Riccardo Luna, Cambiamo Tutto, al quale ci siamo ispirati anche per la nostra linea editoriale, che quindi ringraziamo pubblicamente e ci dispiace non averlo avuto tra i nostri intervistati, ma ci rifaremo nella prossima annualità. Magari ci sarà altra occasione, chissà cosa ci riserva il futuro, Annibale? Eh beh, il futuro non può che riservarci delle situazioni, degli aspetti positivi, e qui ritorniamo un po' alla televisione di servizio, perché ricordiamo che qualche settimana fa la Regione Puglia è uscita con una nuova normativa, una nuova legge regionale che ha istituito quelle che sono le cooperative di comunità. Quindi che cosa succede? Viene riconosciuta un po' questa nuova qualifica, perché dal punto di vista giuridico parliamo comunque sempre di cooperative che possono acquisire anche la qualifica di cooperative di comunità. Quindi sono delle cooperative che hanno questa funzione di promuovere la comunità, sia dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista sociosanitario. Quindi anche e soprattutto per i giovani si aprono tutta una serie di opportunità per cercare di trasformare in idee concrete dal punto di vista imprenditoriale quella che può essere la propria idea. Ricordiamo anche 32 puntate nel corso di questo cammino insieme, poi abbiamo anche vissuto dei momenti particolari, per esempio in base al periodo in cui ci trovavamo. Abbiamo conosciuto ragazzi che hanno organizzato, la ricordi, Annibale, la Via Crucis Vivente qui a Disiponto? Sì, in realtà potrebbe rientrare anche nella macro categoria culturale, perché anche quello è un modo come un altro di fare della cultura. Loro in realtà l'hanno fatto attraverso questa manifestazione, che in realtà noi abbiamo cercato di collegare non soltanto agli aspetti di carattere culturale, ma anche dal punto di vista turistico, perché questa iniziativa è diventata, potrebbe diventare anche un'iniziativa importante e attrattiva dal punto di vista turistico. E quindi sì che li ricordo, avevo l'opportunità di intervistare anche direttamente alcuni discepoli, mi ricordo di differenti età. Anche Gesù. Anche Gesù, è vero, avevamo colui che rappresentava Gesù. A proposito di giovani, tutti i giovani sono una risorsa, è stato il motto che abbiamo preso dal programma Bollenti Spiriti, ne abbiamo parlato largamente e abbiamo avuto con noi anche l'assessore alle politiche giovanili della Regione Puglia, Guglielmo Minervini. Anche quella, ricordo, una puntata in esterna e avevamo l'opportunità di poterlo incontrare durante una manifestazione che tenne in provincia di Foggia. Eravamo ancora all'inizio, non erano ancora uscite le linee guida sulle politiche giovanili, quindi sul programma Bollenti Spiriti 2014-2015, ma riuscimmo ad avere tutta una serie di anticipazioni e anzi ne approfittammo della sua presenza per raccogliere un po' queste anticipazioni, tra le quali ad esempio uscirono anche quella che è la figura che adesso è stata formalizzata dell'animatore giovanile, dell'animatore territoriale. E comunque abbiamo presentato tantissime start-up. L'evento per eccellenza poi era lo start-up weekend in diverse parti d'Italia, Lecce, Roma, Milano, Torino, aiutatemi, tante altre città. Bologna, sì. Infatti, ricordando che Milano è stata eletta anche quella che è la città italiana delle start-up, non fosse altro per il numero abbastanza elevato che se ne sono costituite in questa regione, soprattutto in questa città, visto anche la centralità di questa città che avrà, soprattutto per i prossimi anni, perché ricordiamo che accoglierà quello che è l'Expo 2015. Quindi adesso entriamo un po' ad analizzare, a ripercorrere un po' quello che è la macro area impresa, tutte quelle imprese innovative che abbiamo visto durante questa annata. Me ne vengono in mente tra le tante, ad esempio quella legata allo scooter dove... Sì, fantastico. Quello in Spagna, di Barcellona in particolare, era un ragazzo poi italiano che ha trovato fortuna purtroppo fuori dall'Italia, però tanti altri poi sono riusciti a realizzare i propri desideri qui sul territorio nazionale. Questo ragazzo ha invece deciso di uscire fuori dall'Italia per realizzarlo, il suo obiettivo, e ci è riuscito. Poi ricordo anche l'altra, diciamo, start-up, quella interessante con il docente e gli studenti che ci presentavano questa loro idea, ma parlavano un linguaggio molto tecnico. Sì, che solo tu potevi comprendere. Che neanche io... È il prof. Allora, io non lo capì perché erano proprio tecnicissimi, parlavano di aspetti di informatica un po' troppo specifici che non... Io invece ricordo con piacere, perché poi è lo stesso linguaggio mio, quello delle torte, la start-up sulle torte, no? Quelle che si ordinavano a casa. Sì, c'è un filo conduttore in tutto questo ed era che a volte incontravamo idee davvero molto strane, anche molto di nicchia, però creare il lavoro, creare la start-up, abbiamo visto in tutte queste puntate, aveva proprio questo aspetto, questa caratteristica particolare di individuare un bisogno, anche minimo, anche piccolo. In realtà con la rete, con le nuove tecnologie, questo bisogno può essere un bisogno molto più diffuso di quello che possiamo immaginare. Verissimo. C'era quello per collaboratori domestici. Eccolo lì, Matteo, dalla regia. Te lo ricordi? Anzi, più precisamente, era collaboratori familiari. Esatto. Quelli che, insomma, poi vengono chiamati anche in maniera scurrile, professore, badanti, badanti, però non si dice badanti, ma era proprio quella categoria che veniva servita da questa start-up, questa attività. Parliamo di bisogni, sicuramente una necessità molto sentita per le famiglie, però quella start-up fece sì che ci fosse una banca dati a livello nazionale per questo servizio molto richiesto nelle famiglie oggi. Una puntata, Matteo, la dediciamo anche ai mezzi di comunicazione, in particolare la radio, e l'associiamo proprio ai volontari. C'era una bella iniziativa siciliana di radio condotta da volontari della PASER, mi pare. Sì, in realtà Federati Ampas, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale della Sicilia, con un bando della Fondazione con il Sud, che favoriva il potenziamento di reti locali, in questo caso la rete locale era proprio il Comitato Regionale di tutte le Ampas della Sicilia. L'idea per rafforzarle fu la creazione di una web radio, che è tuttora viva e vegeta, è una nostra concorrente, una concorrente anche della nostra rete Smash, ma spesso facciamo anche dei collegamenti con loro, e nelle loro attività radiofoniche raccontano il volontariato di tutti i ragazzi e le ragazze di Ampas della Sicilia, in modo da diffonderlo. E posso dire che questa start-up tutta siciliana è stata imitata addirittura dalla Lombardia. Hai parlato di concorrenza, ma noi abbiamo visto in queste 30-32 puntate che invece la parola d'ordine nelle start-up, in questo mondo giovanile, in questo mondo di chi crea lavoro, è proprio quello della condivisione invece del confronto, per cui non abbiamo avuto assolutamente paura né timori a valorizzare questa esperienza. Anzi, possiamo dire che in questo periodo, forse perché cominciavamo a guardarci un po' intorno per arricchire le nostre puntate, sia radiofoniche che televisive, ci siamo accorti di quanto si parla di start-up oggi. Forse eravamo noi a trovare un po' troppi riferimenti, però ci siamo sentiti assolutamente senza concorrenza, con condivisione, come diceva Francesco. E a proposito di questo parlare tanto di start-up, adesso rivedendo un po' tra i video, mi è balzato subito all'occhio questa papillon rossa, che mi ricorda questa voce fuori dal cuoro, ed era quest'intervista nella quale... Marco Camisani Calzolari. ...che criticava un po' l'evolversi del concetto di start-up, come alcune persone naturalmente erano entrate in questo settore e cercavano di sfruttarlo, tra virgolette, in senso negativo. E dava una lettura molto particolare su questa evoluzione del concetto di start-up, su questo ruolo che gli incubatori svolgono o dovrebbero svolgere, secondo lui, e un po' il fumo, se non sbaglio utilizzo proprio questa parola, che si stava creando attorno a questo concetto di start-up, che si stava un po' troppo espandendo. E fu molto interessante sentire questa voce fuori dal cuoro che ci aiutò anche a riflettere su tutta una serie di aspetti. Sì, noi il termine start-up l'abbiamo utilizzato, ci siamo sentiti anche chiamati in causa dalle argomentazioni di Marco. Noi l'avevamo utilizzato nel lontano 2013, ormai lontano, e non era assolutamente un termine conosciuto. Lo avevamo utilizzato in maniera molto metaforica e continuiamo a utilizzarlo nelle nostre puntate in maniera molto metaforica, perché start-up significa accelerazione, significa ripresa, nel suo significato comune nella lingua inglese è tutto ciò che riparte o che parte e che ha bisogno di una spinta. Ora è periodo estivo, si sta avvicinando il periodo delle vacanze, del riposo e c'era anche una start-up che parlava di scambio di case per vacanze o anche per studenti. Annibale sorride. Lo ricordo, se non sbaglio anche quella era un'esperienza di una ragazza che era andata all'estero in Olanda, può essere, e anche quella è una bella idea perché in questo caso cambiamo nuovamente settore e passiamo a quello che è il settore turistico che abbiamo affrontato con tutta una serie di iniziative, in realtà anche quella dello scooter poteva rientrare in quest'area, dove si ha questa nuova visione del turismo con il turista che in realtà non è più soltanto turista ma è un viaggiatore perché ha l'opportunità di vivere un'esperienza sul territorio, in casa di altre persone e quindi vivere diversamente questa esperienza, questo viaggio perché può vivere veramente all'interno di una casa e vedere che cosa succede all'interno di una casa, anche se poi in quel caso ci si scambiava, però non è la fredda stanza di albergo con la disposizione standard. In quel caso là comunque in casa può essere che ci sia un quadro messo di traverso. È vero. Francesco, ricordi invece il professore che portassi tu nei nostri studi? Vincenzo, Vincenzo Di Maglie, sì. In una scuola? Anche quella è un'esperienza pugliese, è un'esperienza nuova, dopo scuola possiamo dirlo, non si dice neanche più dopo scuola, ma insomma di un'esperienza, di un'iniziativa imprenditoriale perché questi ragazzi cercano appunto di mantenersi con questo lavoro, di formazione che non fosse il solito diplomificio e che fosse invece un intervento individualizzato per ragazzi che non essendo riusciti a completare il loro ciclo di studi nel sistema formale strutturato della scuola pubblica non volevano neanche comprare il diploma, ma volevano un percorso individualizzato. Anche questo come vediamo un bisogno sentito e in questo bisogno si può creare lavoro. Insomma noi abbiamo qui anche uno schermo davanti, stiamo rivedendo anche come siamo cambiati noi durante tutto il corso dell'anno televisivo, dalla prima puntata all'ultima, a questo punto Matteo dovrà giustificarsi perché in alcune puntate non c'era, come mai? Sicuramente i tanti impegni, i tanti impegni e la tanta radio, ecco mentre voi eravate lì in televisione la radio mi ha tenuto legato qui. E così come Annibale, è cambiato anche per noi, cosa si fa oltre a start up nella vita Annibale? Oltre a start up nella vita si va in giro per l'Italia se non per l'Europa, quelle volte in cui fortunatamente capita e si fa un po' attività di formazione principalmente, si fa soprattutto attività di divulgazione perché vuoi o non vuoi si va in giro a parlare di quelle che sono le esperienze che si fanno, di quelli che sono i vari bandi che ci sono e quindi si incontrano altre persone con le quali realizzare potenzialmente delle partnership per partecipare a quelli che sono i vari bandi. Ecco perché dicevo viaggi sia a carattere nazionale ma anche a carattere europeo perché ad esempio nelle varie puntate abbiamo parlato di quello che era il programma in passato gioventù in azione, adesso si chiama Erasmus Plus e di tutte quelle che sono le opportunità che ci sono per i giovani in giro per l'Europa ma non soltanto all'Europa in giro per il mondo per fare quella che prima anticipava Di Palma, educazione non formale e quindi si va in giro a trovare, a vivere nuove esperienze. Abbiamo detto cosa si fa nella vita oltre a start up, qui c'è Francesco detto il prof, anche se prof non l'è più, è preside e quindi ha una sua vita parallela. Faccio presente che anche preside non si dice più. Censuriamo. Lavoro nel campo della formazione, diciamo così, sono molto molto preoccupato del futuro dei giovani e di ciò che i giovani dovrebbero ottenere dalla scuola ma anche dal territorio, anche dalla città, anche dalla famiglia. Per cui il ruolo davvero, il ruolo fondamentale della TV e della radio, di Padre Pio TV in questo caso, di Rete Smash, è un ruolo fondamentale per far comprendere che il lavoro oggi non si trova più ma va costruito, cercato, creato. Inventato qualche volta. È vero e occorre anche sbattere la testa ogni tanto, anche se ci sono diversi fallimenti, insomma bisogna andare avanti, questo l'abbiamo capito. E questo ne abbiamo anche parlato, ricordo un'intera puntata di Palma dove si è analizzato questo concetto di fallimento e di come le start up sono un esempio tipico di esperienze imprenditoriali che partono, si valutano a seconda se l'esperienza va bene o male, ma nel caso in cui vada male, questo anche dal punto di vista legislativo, proprio la normativa, il decreto legislativo che in Italia ha istituito le start up prevede anche un percorso tra virgolette un po' semplificato e neanche così stringente nei confronti di coloro che hanno fatto questo tipo di esperienza e non è andata bene, proprio perché le start up hanno questo ricambio abbastanza forte e quindi può capitare anche che ci sia un fallimento, ma quel fallimento serve come base per poter partire con una nuova iniziativa. E allora, Francesco, siamo arrivati proprio agli sgoccioli. A conclusione, sì, abbiamo i nostri termini chiave insomma in quest'anno, quello che abbiamo voluto sottolineare è la voglia di cambiare, la disponibilità a cambiare, la condivisione come stile di vita, l'accettare il fallimento, ma soprattutto la conoscenza perché andiamo verso un mondo che richiederà sempre più conoscenze per poter essere un mondo adatto a risolvere i nostri problemi. Intanto siamo in radio e c'è Matteo che dall'altra parte vuole suggerirci qualcosa. Sì, per chiudere il cerchio delle esperienze al di fuori dalla nostra avventura di start up voglio ricordare anche per salutarlo perché è già al lavoro con un nuovo film il nostro Stefano Simone, l'abbiamo raccontato, il ragazzo, il regista che si è fatto tutto da solo che è stato anche già ospite a Padre Pio TV con il suo film proprio dedicato dedicato ad un miracolo di Padre Pio e poi il lavoro fatto con noi, con me in prima persona Weekend tra amici, adesso sono proprio in corso le riprese del suo nuovo film che uscirà in autunno, quindi in bocca al lupo anche a Stefano per la sua nuova avventura. È vero, Matteo poi è anche attore, abbiamo scoperto cammin facendo, quindi hai fatto bene a ricordarlo Matteo. Insomma, squadra che vince non si cambia? Eh beh, vediamo un po', magari. Intanto io voglio ringraziare di cuore questi miei compagni di viaggio senza i quali io non ce l'avrei fatta a raggiungere insomma questo traguardo Francesco grazie, Annibale grazie. Grazie a voi. Annibale sai chi sono io, sì? Anna Maria. Ringrazio anche Matteo dall'altra parte. Sì, che è l'addetto all'indirizzo e-mail ovvero Startup Padre Pio TV, chiocciola gmail.com, ricordate 2P Startup Padre Pio. E allora, grazie anche a voi che ci avete seguito, grazie al supporto tecnico senza il quale pure non potevamo fare nient'altro, Vito Ciavarella, oggi c'è anche Mario con noi, quindi una grande squadra al completo e Stefania Di Maggio che poi ha avuto l'idea di portare questo programma radiofonico di successo Startup su Rete Smash qui in onda su Padre Pio TV. Grazie a tutti di cuore e a presto, alla prossima. Grazie a tutti.